L'Università Ca' Foscari di Venezia triplica le immatricolazioni ai corsi triennali, appena pubblicati i dati definitivi, merito anche di una tempestiva ristrutturazione che modernizza e arricchisce i corsi di studio. Aumentavamo intorno al 4% negli ultimi 2-3 anni, quest'anno abbiamo fatto più 12,2%, tre volte tanto, quindi sicuramente un segnale importantissimo. Un salto triplo per l'Università Ca' Foscari di Venezia, quel 12,2% in più di immatricolazioni ai corsi di laurea triennali. Oltre 4.000 nuovi iscritti. Il balzo veneziano, il rettore Carlo Carraro, lo spiega con la riduzione e riorganizzazione dei dipartimenti stabilita dalla riforma Gelmini e applicata prima in Italia da Ca' Foscari. Abbiamo associato le competenze linguistiche, per esempio nel cinese o nel giapponese, con quelle economiche, quelle artistiche, con quelle informatiche, quelli scientifiche, con quelle economiche. Queste integrazioni, questi mix hanno trovato un riscontro molto molto forte da parte delle famiglie e da parte degli studenti. Spiccano il più 60% di immatricolazioni a lingue orientali, il più 26% dell'area scientifica dopo varie annate di calo, più 30% per chimica e tecnologie sostenibili. E dal prossimo anno accademico dovrebbe essere pronto il nuovo polo didattico in Via Torino a Mestre. Più 3,6% le nuove iscrizioni alle lauree magistrali, il biennio specialistico di secondo livello. Quasi 1700 studenti in più, in totale sono circa 18.500. Tempo 3-4 anni, Ca' Foscari conterà su nuove residenze universitarie per 1000-1200 posti letto. La sfida dell'Ateneo è anche una battaglia per Venezia, per tenerla viva e agganciata al presente, come è sempre stato nella sua storia.